Salve a tutti, sono Bramf, se non mi conosci il mio scopo è aiutarti a guadagnare online, parlo di soldi, di finanza personale, crescita personale e business online. Oggi siamo qui in un video dove andrò a spiegarti come diventare influencer e tu dirai, eh vabbè ma chi sei tu per dirmelo? Beh ho 300.000 follower su TikTok, ho quasi 18.000 follower, forse di più su Insta e qui su YouTube ho 14.000 followers, quindi ne so qualcosa, anche se i follower imparerai in questo video non contano a niente, letteralmente, ma ti spiegherò passo passo come ho fatto a generare questi numeri e come faccio a generare ogni mese milioni e milioni di visualizzazioni. Allora, iniziamo subito da un passo, da una cosa fondamentale, ovvero i follower non contano se vuoi guadagnare online. Perché le persone vogliono diventare influencer? Molti sì vogliono diventare influencer per la fama e se sei uno tra questi puoi tranquillamente abbandonare il video, non che io non riesca a spiegarti come fare, ma qui su questo canale parliamo di soldi, parliamo di business online e se punti alla fama più che ai soldi, più che a creare un business dietro la tua presenza online, non è il posto che fa per te, anche se potresti continuare ad ascoltarmi e ti farebbe bene. Quello che ti voglio far capire è che conosco tantissime persone, tantissimi miei colleghi che hanno molti ma molti meno follower di me, molti meno seguaci e guadagnano anche di più. Come mai? Perché sono in delle nicchie particolari, fanno delle cose un po' particolari e vendono dei prodotti alla loro audience strettamente targetizzata e quindi riescono a guadagnare cifre importanti anche se hanno mille, cinquemila o diecimila followers. E tu ti chiederai, eh Bramf ma questo com'è possibile? Come funziona? Chi mi paga? Cosa succede? Perché magari stai pensando ok mi faccio Instagram, YouTube, attivo la monetizzazione, su Instagram collaboro con i brand, bla bla bla. Ok questi sono i metodi che userai all'inizio. Ok ti apri un canale di YouTube, hai la monetizzazione di YouTube, guadagni dalle pubblicità. Quindi non mi ricordo, YouTube si prende il 40%, tu hai il 60% e ogni volta che viene riprodotta una pubblicità all'inizio del tuo video, in mezzo al tuo video, in mezzo al tuo video alla fine, tu guadagni una percentuale. Tu guadagni in base alla nicchia in cui sei, se non sai che vuol dire nicchia, è semplicemente l'argomento specifico di cui parli. Cosa fondamentale, per diventare un influencer devi influenzare le persone però non a caso. Cioè non è che stamattina ti svegli fai una storia dove parli di animali, il giorno dopo parli di relazioni, il giorno dopo parli di soldi. No, non puoi, lo so che hai tante cose di cui vorresti parlare, lo so che ti passano per la testa mille idee, ma devi focalizzarti sulla principale. Cioè se ti piace fare sport, sei uno sportivo, vai in palestra, allora faresti meglio a parlare solo di quello. Che poi tu cucini un'ora al giorno e quindi ti piace anche cucinare e vuoi postare le tue ricette, bla bla bla. Non conta un cazzo, dovresti sceglierti una nicchia specifica come può essere bodybuilding, business online, finanza personale, questo, quell'altro. Ti scegli una nicchia super specifica e vai a creare dei contenuti e a fornire valore allo spettatore che ti sta guardando solo su quella nicchia. Così cosa accadrà? Accadrà che ti andranno a seguire solo le persone realmente interessate, perché se tu parli strettamente di bodybuilding e non parli di altro, cioè magari non fai delle gag comiche, ok, parli solo di bodybuilding, come fare questi esercizi, come fare quest'altro, poi lo puoi fare nel tuo modo, puoi diciamo declinare i contenuti nella maniera che più preferisci. Però se tu inizi a parlare solo di una determinata cosa, avrai un pubblico super in target che ti seguirà assiduamente e sarà attento e vorrà vedere quello che vai a fare. Dal momento che inizi a saltare da un argomento all'altro, le persone perdono interesse, ma soprattutto smetteranno di seguirti. Tu avrai dei follower che sono dei follower vuoti, avrai magari 50.000 followers, però il tuo video lo guardano in 10. Perché accade questo? Perché i primi 10.000 follower magari le hai fatti parlando di ventilatori, e gli altri 10.000 le hai fatti parlando di cani e così via. Quindi le persone che ti seguono per i ventilatori non trovano più interessanti i tuoi contenuti, non ti smettono di seguire perché magari lasciano il follow, però a cosa serve? Cioè magari adesso parli di bodybuilding, prima parlavi di ventilatori, e le persone dicono sì ma che staffa questo? Cioè va bene, lo guardo, però se tu inizi a proporre un prodotto, un qualcosa inerente al bodybuilding, non lo comprerà nessuno perché appunto prima parlavi di ventilatori e quindi le persone erano interessate ai ventilatori. Dal momento che parli di ventilatori, continui sempre a parlare di ventilatori, poi a un certo punto inizi a proporre un ventilatore innovativo che ha delle pale, che grazie alla loro resistenza, alla loro conformazione, riescono a farti risparmiare il 30% sull'elettricità eccetera eccetera, inizi a proporre un prodotto tuo innovativo che piace al cliente, da quel momento inizi a guadagnare, inizi a vedere i soldi, perché hai delle persone interessate a un qualcosa e tu gli piazzi davanti a loro il prodotto giusto. Questo è il marketing, prendere un pubblico e piazzare davanti a questo pubblico un prodotto che già vogliono. Il marketing non è far volere un prodotto a persone che non lo vogliono, è trovare il prodotto giusto da piazzare davanti alle persone giuste. E questa cosa viene fraintesa da molti. Quindi come diventare un influencer, cioè quelle sono le azioni su cui ti devi concentrare? Innanzitutto devi smetterla di pensare alla fotoprofilo, di pensare a questo, la descrizione migliore è ma devo ottimizzare la SEO, l'algoritmo di Instagram, quindi devo postare la foto così perché se la posto in quest'altro modo non... Tutte queste sono cazzate che usano per venderti i loro corsi, corsi del cavolo, non come i miei programmi, ok? Corsi che non ti servono a niente, che ti fanno solo avere la voglia di fare soldi ancora di più, ma poi scopri che sei sperduto nel nulla. Cosa devi fare però realmente? Non ti focalizzare su queste cazzate, su montare il video per bene, perché devi farlo perfetto, se no non intrattieni le persone. La cosa su cui ti devi concentrare è creare contenuti, perché un influencer, un content creator crea contenuti, ok? Creare contenuti di alto valore è costantemente, fine. Queste tre cose, creazione di contenuti, fornire del valore, costanza. Facendo così creerai un pubblico che poi potrai monetizzare. E come lo si monetizza? Fornendo un prodotto o un servizio, mettendo davanti al tuo pubblico un prodotto o un servizio di loro interesse, come ti ho già detto. Non ti sto dicendo che devi creare, se parli di ventilatori, devi creare un ventilatore tu. Magari questo ventilatore esiste già, ok? Tu però puoi contattare l'azienda che produce questi ventilatori e dire, senti, mi date una percentuale del 40% se vi vendo un ventilatore? Loro magari ti diranno di sì, tu inizi a vendere i loro ventilatori, ok? Perché hai un pubblico interessato ai ventilatori, e quindi inizierai a fare il 40% su ogni vendita. Questo per esempio si chiama affiliate marketing, ed esiste, si può fare. Lo puoi fare su Amazon, esiste il programma di affiliazione di Amazon, tutte quelle carte che ti danno 30 euro se porti un amico, quello è un programma di affiliazione. Per esempio io che sono nella nicchia dei soldi, posso sponsorizzare un broker, un servizio finanziario, e magari ogni persona che entra mi danno 100 euro. Da cosa dipende quanto ti danno? Dipende appunto dalla nicchia in cui sei. Se sei nella nicchia dell'immobiliare, e ovviamente vendi una casa, prenderai una percentuale, prenderai tantissimi soldi. Cioè anche se prendi l'1%, però la casa costa 50.000 euro, capisci bene anche tu che fai tanti soldi. Poi ci sono io che parlo di soldi, quindi magari un broker mi contatta e mi dice ti diamo 250 euro solo se ci fai iscrivere un cliente, ok? Solo per l'iscrizione, nemmeno per il deposito. Perché fanno ciò? Perché sanno che i soldi che mi danno a me, comunque li dovrebbero spendere per della pubblicità esterna, magari Facebook ads, eccetera, eccetera, che gli costa molto ma molto di più. Acquisire un cliente per un servizio di brokeraggio costa tantissimo, perché il costo medio del cliente, il lifetime value, LTV, è molto alto per un cliente che si iscrive a un broker. Magari inizia a investire 1.000 euro al mese, 100 euro al mese, comunque lo fa costantemente, i suoi investimenti iniziano a aumentare, il broker prende una percentuale, magari investe per 10, 20 anni, rimane con lo stesso broker. E quindi il lifetime value del cliente, il valore che ha quel cliente per l'azienda è molto alto. Invece il lifetime value per un'azienda di giocattoli, di un cliente che compra i giocattoli, è basso. Anche se quel cliente ti comprerà 10 giocattoli, quanto possono costare i giocattoli? 20 euro, 50 euro? Fai 50 per 10, ottieni 500 euro. Il lifetime value di un cliente è 500 euro, ok? Per un'azienda di giocattoli. Invece per un'azienda che propone servizi finanziari, il lifetime value è molto più alto, 10.000, 20.000 euro anche. Dipende dal servizio, dipende da tanti fattori. Quindi se ti danno 250 euro, 300 euro a te, se li porti un cliente, ma loro sanno che il lifetime value medio del cliente è 10.000 euro, è ovvio che vanno a guadagnarci molto e molto di più. Questo è il trucco per fare i soldi. Semplicemente fornire del valore e mettere davanti alle persone a cui già ha fornito del valore gratis un prodotto a pagamento. Ma un prodotto che già vogliono. Molte persone pensano, eh ma devo vendere, oh mio Dio, come faccio? Come faccio a mettere i miei prodotti a questo prezzo così alto? Questo, quest'altro? Ma ragazzi, le persone se comprano, vogliono comprare. Cioè non è che le obbligate con la pistola. Detto questo, moltissime persone si concentrano totalmente sulle cose sbagliate per diventare influencer. Per esempio, iniziano a creare contenuti online, magari poi abbandonano la creazione di contenuti. Anch'io ho sbagliato in passato, anch'io ho fatto questi errori. L'abbandonano perché, no, devo creare il sito web adesso, quindi mi devo concentrare solo su quello, devo stare attento, questo, quella. Ma che cosa ti serve il sito web? Se tu li vai a chiedere effettivamente a cosa ti serve, cioè quanto guadagno ti porta, e boh, però il sito web serve, ti dà autorità. Ma che autorità? Ma di cosa? Di cosa? Se tu stai facendo delle azioni che ti sembrano produttive, ma che in realtà non ti portano a niente se ci rifletti, stai solo ingannando te stesso di far qualcosa di produttivo, ma non la stai facendo. La vera produttività è creare contenuti di valore, parlare con possibili clienti per collaborazioni, chiamare a destra e sinistra, quelle sono le attività produttive. Non creare il sito web, andare a farsi l'immagine di profilo dal fotografo, cioè tutte queste cazzate non servono a nulla, non ti porteranno mai a nulla, non hanno portato mai nessuno a nulla. Chi sta attento all'algoritmo è ma deve essere più illuminato il video, la copertina col contrasto, è vero, sono cose importanti, ma quando inizi alle persone interessano molto di più i contenuti, per esempio questo video sarà poco editato, poco importa perché magari alla fine arriveranno pochissime persone, dieci persone, ok? Però quelle dieci persone saranno così interessate a quello che ho detto perché gli sto dando del valore assurdo che poi sono disposte a comprare qualsiasi cosa da me. E per esempio se io dico qua sotto c'è il mio programma formativo privato e loro pensano ok, gratuitamente mi sta dando tutto questo contenuto, figurati in un programma formativo privato che costa, che ha un costo. Io ho bisogno di aprire un business online, di diventare influencer, quindi è per questo che sto guardando il video, vado nel programma formativo di Bramf. E quindi io guadagno anche senza aver editato il video, senza avere un sito, senza avere questo, senza avere quell'altro. Ovviamente il discorso cambia se sei un po' più avanti come me, ti puoi permettere di assumere delle persone, di avere un'assistenza, di creare l'immagine di profilo bella, di fare questo, quello, quell'altro, non è necessario, eh, ma te lo puoi permettere perché puoi delegare. Ma all'inizio devi fare quelle azioni che nel minor tempo ti portano i maggiori risultati. Sempre la regola 80-20, fai quel 20% di azioni che ti portano l'80% dei risultati. Ok? Ragazzi, questo è il segreto per diventare influencer alla fine. Agire. Scegliere una nicchia che può essere addestramento dei cani, boh, scegli quella nicchia, inizi a creare contenuti di valore, fare video su Instagram, su TikTok, su YouTube, invadi tutte le piattaforme e dopodiché, dopo che hai fatto i video, innanzitutto devi essere costante, continua a farli, ti creerai un pubblico, dopo vai a vedere quale prodotto proporre, come cercarlo, questo e quell'altro. Tu innanzitutto ti fai un pubblico e non sto parlando di arrivare a 300.000 followers e poi trovare il prodotto, anche 1.000 followers bastano, anche 500.000. Inizia a fare, perché di sicuro le persone che non iniziano e si mettono a ragionare come posso partire prima nella maniera migliore, con la grafica migliore, col sito migliore, questo, quello e quell'altro, di sicuro queste persone avranno 10.000 volte meno risultati di un tizio che magari parte anche a caso facendo dei video un po' bruttini, che però li fa costantemente ogni giorno per sei mesi. Magari quell'altro ci mette sei mesi per partire con l'idea perfetta, inizia e non vedi i risultati che si aspettava, molla tutto. Invece parti dal basso e poi arriva in alto. Inizia a fare i video, questa è l'unica cosa che devi fare, creare contenuti, creare foto, video, contenuti online comunque. Per fare l'influencer, devi fare l'influencer. Comportati come tale, fine. Non ci sono altri segreti, chi cerca di propinarti qualche altro segreto, cose strane, entra nel mio programma che ogni mese ti danno gli aggiornamenti dell'algoritmo di TikTok, decriptiamo questo, quell'altro? No. Assolutamente no. Ragazzi, vi ricordo qua sotto i link in descrizione, mancano pochissimi posti per il mio corso gratuito punto di svolta, vai a vedere di cosa si tratta, entraci per favore, cioè non è un favore che fai a me, è un favore che fai a te, io te lo dico perché seriamente le persone che ci sono entrate mi hanno lasciato dei feedback assurdi e io non so più come dirtelo. Tra poco staranno finendo questi posti, te ne pentirai perché poi costerà e lo vorrai pagare? Perché capirai quanto vale ma sarà troppo tardi? E dopo, se vuoi comunque fare le cose seriamente, c'è il mio programma formativo privato, la mappa dei soldi, sempre qui sotto in descrizione. Basta.